Ci mancano i palazzetti pieni di persone Ci manca segnare un canestro e sentire il calore dei tifosi Ci manca tutto questo e lo rivolgiamo Oggi dobbiamo giocare la partita più importante contro un avversario comune E dobbiamo farlo assieme Quest'avversario è il covid-19 e ci fa paura Ma lo possiamo sconfiggere se tutti insieme Bambine e bambini Ragazze e ragazzi Adulti e anziani Continuiamo a rispettare le regole del gioco Sono due regole semplici Seguile come noi Indossa sempre la mascherina E stai distante dalle persone almeno un metro Solo così torneremo a giocare insieme Facendo canestro Abbracciandoci di nuovo Per tifare la squadra del nostro cuore Tutti insieme a cominciare il colore Tutti insieme a cominciare il colore Tutti insieme a con noi Grazie a tutti. Grazie a tutti.